Sette persone sono state denunciate dai carabinieri per accuse di varia natura nel corso di una serie di controlli eseguiti a Gela, dopo che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza aveva deciso una particolare attenzione a seguito delle sparatorie delle scorse settimane. Le denunce sono scattate per due giovani, uno di 23 anni e l'altro di 32, trovati in possesso di un coltello a serramanico ciascuno. Guai anche per un uomo di 66 anni che aveva con sé 5 cartucce per pistola calibro 7,65 per un 35enne che nel corso di un perquisizione in casa è stato sorpreso con 7 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Denuncia anche per un 21enne che teneva in auto una mazza da baseball, oltre a poco meno di 5 grammi di hashish e che nel corso del controllo ha anche minacciato gli investigatori. Un ragazzo di 16 anni è stato sorpreso alla guida di un motociclo pur non avendo conseguito alcuna patente e sul mezzo viaggiava un 18enne, ma non contento ha anche cercato di sfuggire all'alt dei militari dando vita a una fuga pericolosa per sfuggire loro. Denunciato anche un 25enne per essersi messo alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore alla norma. Nel corso dei controlli sono stati controllati in totale 239 automezzi, elevate 46 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 7 carte di circolazione e identificate 479 persone. 38 le perquisizioni personali eseguite al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 9 grammi di hashish, poco meno di un grammo di marijuana, 7 grammi di cocaina, 3 spinelli, 2 coltelli, alcune munizioni e una mazza da baseball, per cui al termine degli accertamenti sono state segnalate alla prefettura 10 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, all'autorità giudiziaria 7 persone, 3 per polto illegale di armi o oggetti atti ad offendere, 1 per detenzione illegale di munizioni, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per resistenza e 1 per guida in stato di ebrezza. Inoltre è stata disposta la sospensione delle attività produttive di una trattoria di gel, il cui titolare è stato multato per 3.000 euro per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Inoltre sembra che non venissero correttamente applicate le procedure di autocontrollo. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta circa 250.000 euro.